Sold out a Napoli per lo Zoom Day, tenuto sia grande o interessante Lucia, il format di SEO Cube, focus volta l'approfondimento di tecniche e attività, volta a migliorare la visibilità di un sito web sui motori di ricerca. Che cos'è la SEO? Diciamo che oggi, per come viene vista in giro, la SEO è un po' tutto, keyword research, copywriting, tutte queste attività correlate. In realtà, secondo me, la SEO è fare in modo che il nostro sito web comunichi perfettamente con il motore di ricerca è quell'attività che ci permette di valorizzare tutte le altre attività che vengono fatte all'interno del sito, quindi la creazione di contenuti di qualità, fatti bene, se il sito è ben ottimizzato e queste informazioni vengono comunicate nel modo giusto al motore di ricerca, saremo premiati. Quindi è un prerequisito la SEO, non è niente di più che è un prerequisito che dovrebbe avere qualsiasi sito web per poter comunicare adeguatamente con il motore di ricerca. Quali sono le categorie che lavorano sul web e che devono conoscere la SEO? Editoria, perché la maggior parte dei portali editoriali producono una quantità di informazioni impressionante e quasi nessuno riesce ad ottenere il traffico desiderato che vorrebbe ottenere. Quale necessità del progetto Zoom Day? Agli utenti ci chiedono sempre informazioni sui sensi dello strumento, però era anche carino aiutarli dal punto di vista proprio pratico e teorico per imparare veramente bene la SEO prima che utilizzare lo strumento. Quindi è uno scambio di opinioni con professionisti che in realtà anche loro fanno questo tipo di lavoro. Ci scambiamo delle idee e si può anche migliorare lo strumento dal feedback che ci daranno.